Dumfries esce zoppicando, ma poi rassicura. Dieci giorni sarò pronto per l'Inter. Non è stata una grande serata quella di Denzel Dumfries al Usail, ieri sera. L'eliminazione ai quarti di finale contro l'Argentina e i calci di rigore. Poco prima la sua espulsione con doppia munizione in rapida sequenza e, come se non bastasse, anche un piccolo problema fisico. Alla fine della partita della sua Olanda lo si è infatti visto lasciare il campo. Oltre che deluso, anche sofferente, soppicante. Se il corpo manifestava però una qualche criticità, il volto esprimeva un pizzico di serenità attraverso un leggero sorriso. Che è stato poi accompagnato da una manciata di parole cariche di significato, o qualcosa al polpaccio. Ma niente di grave. Con tanto di prima approssimazione di rientro, in dieci giorni sono pronto per l'Inter. Che poi è il lasso di tempo previsto dal club nerazzurro come vacanza per chi rientra dal mondiale. Ovviamente, a freddo, le condizioni di Dumfries saranno analizzate e valutate dallo staff della società. Simone Inzaghi, al di là delle incognite rappresentate dalle voci di calciomercato, ha un enorme bisogno di lui.